L'amministrazione comunale di Arona sta studiando la possibilità di introdurre il baratto amministrativo per coloro che non siano in grado di affrontare le tasse comunali. Un'iniziativa già introdotta con successo un paio di anni fa nel comune di Invorio. A proporre questa possibilità che favorirebbe coloro che, privati o artigiani, non sono in grado di far fronte alle imposte comunali su rifiuti o altro, è stata la consigliera del gruppo misto, Carla Torelli, che ha chiesto perché non lo si adotta anche ad Arona? Il baratto amministrativo è stato stabilito dal decreto Sblocca Italia del 2014. L'assessore al welfare Marina Grassani ha risposto La nostra amministrazione, sin dal suo insediamento, ha attuato una forma simile di pagamento a chi riceveva contributi dal comune in quanto in difficoltà economiche. Ovvero si chiedeva qualcosa in cambio, come una prestazione d'opera, in tutto il rispetto della massima riservatezza e del rispetto ai più deboli. L'assessore ha aggiunto La norma del decreto Sblocca Italia è stata al centro di uno studio da parte nostra per verificare la possibilità di applicazione di uno strumento non di facile attuazione. Il comune dovrebbe stanziare bilancio una cifra per il baratto amministrativo, quindi indire un bando e raccogliere le richieste dei cittadini. Inoltre, per l'interessato dovrebbe essere prevista una copertura assicurativa. All'inizio dell'anno, però, non tutti possono sapere se saranno in grado o meno di affrontare i tributi comunali. Sono stati citati, ad esempio, le esperienze maturate dai comuni di Milano e Massarosa, in provincia di Lucca. Grassani a conclusione ha affermato. Si tratta di un'idea sicuramente valida. Studieremo come la si possa attuare nel comune di Arona. Grazie.